Nel gruppo Telegram Luigi mi ha chiesto Guertz, puoi farci un piccolo tutorial su come conservare al meglio le batterie dei nostri telefoni? Siccome è un video che non solo lui mi ha chiesto, ma in tanti nel box dei commenti mi chiedete spesso di darvi qualche consiglio su come conservare al meglio le vostre batterie come ricaricare i vostri smartphone, qual è ovviamente la soluzione migliore questi sono più che altro dei consigli che io vi do perché ovviamente non c'è un qualcosa di specifico vi consiglierò più che altro quelle che sono le mie abitudini nell'andare proprio a ricaricare i miei telefoni quindi non perdiamoci in chiacchiere, facciamo partire la sigla! Il primo consiglio che vi do è quello di cercare di ricaricare i vostri smartphone durante la notte con un caricabatterie da 1A questo potrebbe essere un paradosso perché adesso utilizziamo caricabatterie veloci ci sono i quick charge 3.0, 4.0, Oneplus inserisce nella sua confezione un caricabatterie ultra rapido questo vi posso assicurare che a lungo andare può danneggiare le vostre batterie una ricarica lenta invece fa sì che proprio la batteria non ne risenti durante l'utilizzo e questo l'avete anche confermato in tanti quando ricaricate i vostri smartphone con un caricabatterie più lento del normale la vostra autonomia migliora nella giornata quotidiana questo perché durante la notte non abbiamo stressato la batteria altra cosa che dà fastidio alle batterie è il continuo attaccare e staccare il cavo di ricarica pensate voi durante il giorno quante volte, non so se vi capita, se lo fate e se lo fate spesso attaccate e staccate il connettore del vostro cavo questo dà sicuramente fastidio alle vostre batterie perché è comunque contato come un ciclo le batterie hanno dei cicli ovvero hanno, ci sono dei programmi proprio che potete osservare quanti cicli ha fatto la vostra batteria e ogni volta che voi attaccate e staccate il cavo viene contato come un ciclo pensate bene che l'autonomia o meglio i cicli di ricarica di una batteria si aggirano intorno ai 700-800 massimo per poi ovviamente andare a perdere quello che è il volume massimo di chiaramente autonomia della batteria quindi se durante i 365 giorni di un anno attaccate almeno due volte al giorno il vostro telefono capite bene che invece di durarvi due anni una batteria vi andrà a durare solamente un anno sono, vi ripeto, consigli quindi non è legge quello che dico a statistica è quello che succede anche quando ci portano il negozio a riparare batterie danneggiate attenzione agli accessori non certificati alle volte spendere 20-30 euro per un power bank quando? magari importandolo dalla Cina quando ad esempio sulle bancarelle li troviamo a 3-4 euro fatevi una domanda molto spesso vi sarà capitato di dover attaccare un cavo USB al vostro telefono quindi un lightning, un cavo type C, un cavo USB 2.0 e vedere la scritta accessorio non compatibile o quante volte vi sarà successo di attaccare per esigenza personale la vostra batteria al power bank se comprate accessori non certificati, se comprate accessori di scarsa qualità la vostra batteria ne potrà risentire tantissimo ecco perché anche nei miei video quando vi parlo di accessori cerco sempre accessori di qualità con un prezzo sicuramente superiore rispetto a tanti altri ma pensate bene che la batteria è una delle parti fondamentali del vostro telefono quindi dobbiamo per forza salvaguardarla se il vostro lavoro, se passate tanto tempo in auto e dovete attaccare il vostro smartphone a una presa, chiaramente chiamiamola la 12V, l'accendi sigari come volete chiamarla voi attenzione anche lì a come utilizzate quel tipo di accessorio mai attaccare il vostro telefono a macchina spenta e poi accendere l'automobile perché? Perché la batteria dell'automobile dà una scarica superiore a quello che ha bisogno del telefono e quindi anche lì si potrebbe sciupare a lungo andare la batteria accessori come chiaramente caricatori da auto dovete anche lì stare ben attenti a cosa andate a comprare perché comprare un accessorio di scarsa qualità anche lì può andare non solo a danneggiare la batteria del vostro telefono ma può danneggiare anche l'automobile stessa perché noi andiamo ad attaccare alla presa a 12V un accessorio non originale un accessorio di scarsa qualità e quindi attenzione bene ragazzi a cosa andate a comprare quando attaccare lo smartphone al caricabatterie? questa è una domanda che in tanti mi avete chiesto beh, allora, non dovete essere dei malati dell'attaccare il vostro smartphone al caricabatterie il mio telefono quando arriva intorno al 5, 6, 7 ovviamente dipende poi alle esigenze alle volte mi addormento con il 20% di autonomia residua e quindi comunque lo attacco alla presa il mio consiglio è quello di non attaccare spesso come vi dicevo prima il telefono al caricabatterie quindi se siete al 50% tranquilli non attaccate il vostro telefono a un powerbank non attaccato all'allapresa perché secondo me è una cosa superflua che state facendo portatelo sempre sotto il 15% se è possibile quindi fate scaricare completamente lo smartphone e poi lo mettete in ricarica durante la notte e se è possibile con un caricatore più lento di quello che è lo standard del vostro telefono piccoli consigli per far durare al meglio le batterie dei vostri smartphone vi aspetto come sempre nelle box e nei commenti per sapere anche quello che voi volete consigliare a me per cercare di salvaguardare le mie batterie come di consueto ragazzi schiacciate mi piace condividete il video e noi ci sentiamo nei prossimi video